Presso l'azienda sanitaria, voglia se Ciaccio di Catanzaro, negli ultimi giorni abbiamo parlato di problemi, ma questo oggi si è vissuto un momento di gioia e di grande soddisfazione per l'inaugurazione dei nuovi locali del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale. In questi giorni in cui si è parlato di criticità è un po' una boccata di ossigeno. Perfetto, questo dobbiamo dire che oggi è una giornata importante per la sanità caprese, ci fa capire come anche in piano di rientro, in un momento di crisi, si può costruire e fare buona sanità. L'importante è che, questo non l'ho fatto solo io, ma un insieme di persone, i trasfusionisti calabresi, la regione, che insieme abbiamo lavorato dal 2010, da quando sono usciti i decreti per l'accreditamento dei servizi trasfusionali, è stato fatto un lavoro di equipi. Siamo stati tutti compagni di viaggio per arrivare oggi alla conclusione. Praticamente noi fra un mese saremo operativi e prenderemo anche la validazione di tutta la regione. Il merito questo è anche di tutti i trasfusionisti, noi abbiamo 11 trasfusionali. È stata divisa la lavorazione in tre dipartimenti, nord, centro e sud. Quindi il centro trasfusionale di Cosenza, diretto dal professore Zinno, praticamente lavorerà tutte le unità che vengono raccolte nel territorio del Cosentino. A Reggio Calabria è lo stesso, l'ospedale di Reggio Calabria, dove c'è il primario dottore Alfonso Trimarchi, provvederà alla lavorazione di tutto il sangue raccolto su tutti i territori, quindi prenderà anche il sangue degli altri servizi trasfusionali. Da Cosenza e Reggio la validazione, quindi gli esami virologici per garantire che il sangue buono può essere trasfuso, viene accentrato da noi. Noi avremo la capacità di poter qualificare 70-80 mila unità di sangue. Le cose possono certamente cambiare e le inaugurazioni di oggi ci accompagnano in questa direzione. Sì, l'inaugurazione di oggi è la plastica dimostrazione che anche in Calabria si può fare e si può fare bene. Qui si è messo in campo un servizio di avanguardia, un servizio di grande valore strategico nell'offerta sanitaria, un servizio che raccoglie la collaborazione del Dipartimento della Regione in termini di programmazione che ha visto nel tempo diverse amministrazioni, io anche questo vorrei sottolineare, dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio perché spesse volte c'è la moda di cancellare quello che si trova. Il dottore Panella in questo è stato un ottimo amministratore, un accanito amministratore e oggi festeggiamo un servizio regionale che è sicuramente un punto di riferimento importante e positivo.